Per le parole dell'Europa oggi parliamo delle istituzioni sovranazionali, ovvero quelle istituzioni dell'Unione Europea che sono chiamate a fare l'interesse dell'Unione in quanto tale, dei suoi cittadini in quanto tali e non dei singoli stati membri. Tra queste abbiamo il Parlamento Europeo eletto direttamente da tutti i cittadini, la Commissione Europea che è l'embrione di esecutivo europeo che deve avere la fiducia del Parlamento, ma anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Banca Centrale Europea. Tutte istituzioni i cui membri non sono chiamati a rappresentare i loro stati membri, i loro interessi nazionali, bensì l'interesse comune di tutti gli europei. Sono quindi le istituzioni che normalmente spingono per decisioni europee lungimiranti e per rafforzare il processo di integrazione europea.